Benvenuti in consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Gian Paolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Istituzione dell'Abruzzo Film Commission e tutela e valorizzazione dei cammini abruzzesi. Sono le nuove leggi approvate dal Consiglio regionale. Il presidente di Pangrazio sollecita l'elezione del garante dei detenuti. Presto il nuovo bando che terrà conto dei curricula già acquisiti. Catastrofi naturali. Marcozzi scrive a 300 sindaci abruzzesi e chiede di mettere a norma i piani di emergenza comunali. Forza Italia bacchetta l'esecutivo. Quali fondi per la spesa sociosanitaria? Comuni costretti a sospendere servizi di assistenza sociale. Mazzocca. La regione compra le abitazioni per gli sfollati abruzzesi. I comuni indicheranno le famiglie aventi diritto. Sicurezza abitativa Monticelli scrive a D'Alfonso. Inserisca i comuni di Atri e Penne tra i destinatari dei finanziamenti di Casa Italia. Vediamo i servizi sugli altri avvenimenti. Nel corso della seduta della conferenza dei capigruppo sono stati auditi i rappresentanti dei medici di guardia in merito al recupero delle somme che la regione Abruzzo ha disposto in seguito ad un pronunciamento della procura della Corte dei Conti. L'assessore alla sanità Paolucci è intervenuto chiarendo la posizione dell'esecutivo e prospettando due possibili vie di uscita alla problematica. La giunta regionale ha proposto ben due vie di uscita. Intanto sta siglando un accordo con le segreterie regionali sindacali dei medici per attivare una contrattualistica a livello decentrato nelle aziende e recuperare esattamente le stesse somme per il futuro ovviamente in modo da adeguare legittimamente il contratto collettivo regionale, l'accordo integrativo regionale. In secondo luogo la giunta ha proposto che possa disciplinare sul punto, normando ovviamente la questione, il Parlamento nazionale. Si è tenuto a termo il convegno lo sport e il diabete infantile organizzato dal gruppo di alternativa popolare Abruzzo. L'evento è stato moderato dal consigliere regionale Giorgio D'Ignazio che ha messo in rilievo lo stato di benessere che genera per il corpo e per la mente una sana attività sportiva specialmente in presenza di alcune patologie. È stata veramente una giornata dedicata a dare forza a chi pensa magari, pur avendo piccolissima difficoltà, di non poter fare lo sport. Grazie alla testimonianza di Monica Priore si è portato all'attenzione dell'opinione pubblica la conoscenza del diabete mellito di tipo 1, una forma di diabete che si manifesta prevalentemente nel periodo dell'infanzia anche se non sono rari i casi di insorgenza nell'età adulta. Della sua battaglia contro il diabete ha parlato Monica Priore ricordando come questa malattia sia stata da stimolo per alcune delle sue imprese sportive. Sono affetta da diabete mellito di tipo 1 da quando avevo 5 anni, quindi ormai sono 36 anni di malattia, ho cercato a modo mio di reagire a questa difficoltà ed ho sfruttato tanto lo sport che mi è stato d'aiuto, pertanto ho deciso di portare avanti una battaglia collegata allo sport e al diabete mellito di tipo 1 che colpisce purtroppo in età pediatrica. Nel corso di una conferenza stampa i consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri tornano ad occuparsi della situazione dei centri di ricerca abruzzesi. Secondo i rappresentanti del gruppo consigliare di Forza Italia non ci sarà nessun assorbimento dei ricercatori del Cotir poiché il Consorzio di ricerca unico d'Abruzzo ha avviato la procedura di licenziamento per il 50% delle sue maestranze. Quindi, rimarcano Febbo e Sospiri, non capiamo quali rassicurazioni questo governo regionale può dare ai lavoratori del Cotir di Vasto. Credo che negli ultimi anni la nostra agricoltura abbia fatto passi da giganti. Questo si deve scrivere anche a merito di chi ha curato la ricerca, cioè dei tre centri di ricerca, che invece sono stati letteralmente abbandonati, nonostante avessimo dimostrato con il precedente governo regionale che i tre centri di ricerca non sono come qualcuno li chiamava stipendifici, ma erano in grado di produrre progetti insieme ai privati e venivano finanziati non più con i soldi del bilancio regionale, ma con i fondi europei.